Adesso ispirando saliamo su col bacino, in ritorno, cerca di usare la stessa velocità a salire e la stessa velocità a scendere, ne facciamo ancora due, alla prossima ci fermiamo su, il braccio rimane lì, direzione dell'altro, adesso guarda la mano che è alta, la mano va dietro, stira il pettorale, espira, chiudi la gabbia toracica, attiva lo scoop e va in torsione indirizzando la mano verso la caviglia controlaterale, apri di nuovo, non scendere col bacino e facciamo ancora due, non scendere col bacino, spingi forte la mano a terra, allontanati il più possibile dal tuo mat l'ultima volta, ritorno, scendo e libero la gamba superiore davanti all'altra, fuori l'aria, sali, arch e ritorno, allontana il più possibile il bacino dalla mano a terra, la mano spinge forte, immagina di volere imprimere la sua forma dentro il mat, adesso rimaniamo su, di nuovo, allinea le braccia, una grande linea, guarda la mano, stiro il pettorale, fuori l'aria, vai a cercare la direzione dell'altra caviglia, torna, allungo, fuori l'aria, caviglia controlaterale e mi riapro, stiro il pettorale, fuori l'aria, ancora uno, non perdere la fluidità, scendi nel sigillo, prendi aria e stacca il ginocchio, ritorno, inspiro e adesso, e ancora due, lavora bene sulla catena laterale, il bacino e neutro, rimani su, allinea le braccia, stila il pettorale, allungo, fuori l'aria, vai a cercare la caviglia opposta e ritorno, lascia entrambi i piedi a contatto con il mat, fallo per l'ultima volta, scendo e posiziono il braccio, adesso lo facciamo in un movimento unico, sollevando anche i talloni dal pavimento, espiro, salgo in sideband, stacco i talloni, vado a cercare la caviglia opposta, apro il braccio, seguo le briciole di pollicino, mondo delle fiabe, risalgo e ritorno, ne faccio ancora uno, leggeri, leggeri, ritorno e da qua sposto le gambe avanti, la mano che non ha lavorato, tiene le gambe al petto, l'altra si scarica, muovi il polso, bravo jumpy, appoggia tutti e due i gomiti dietro di te e comincia a ruotare, prima verso destra stirando, la gamba sinistra con il piede in flex, torna, inverti, stira l'altra gamba, il tallone cerca di andare a toccare le finestre, allunga e cambio, ancora due, l'ultimo, rimani qua, stendi tutte e due le gambe, non staccare i talloni, non staccare i talloni tra di loro, nemmeno i gomiti a terra, fuori l'aria, fuori l'aria, abbassa le spalle, ancora, l'ultima, riporta le gambe avanti, ritorna al centro.